Per quanto riguarda la partita, oggi abbiamo fatto una partita super dal punto di vista sia tecnico che comportamentale del temperamento. Abbiamo giocato contro un'ottima squadra che però ha cercato solo di limitare le nostre giocate. Abbiamo tenuto bene il possesso palla, siamo stati bene in partita, anche a fine primo tempo abbiamo preso un gol su un fallo, secondo me, dubbio. I ragazzi sono stati bravi a crederci fino in fondo, l'abbiamo ribaltata col gioco e con la determinazione giusta. Sono molto contento della partita e speriamo di continuare così.